Felicia, dobbiamo parlare. Oh, mi mancano le nostre chiacchierate. Ma non ho tempo ora. L'impulso ho mandato in corto i lanciaragnatele. Dovrò ricorrere ai metodi di una volta. Andiamo, voglio aiutarti. Allora sparisci. Se Ammer è da tuo figlio, non puoi agire da sola. Perché no? Sono abituata ad agire da sola. Ma non sei obbligata a farlo. Perché non ti fidi? Abbiamo già lavorato insieme. Ti sei già risposto da solo, lo sai? Felicia, perché non sei venuta a cercarmi? E non è un problema tuo, mamma mia. Faccia da sola. Magari per me non è un problema. Aspetta, a meno che non parli della guerra tra bande. Quello sì che è un problema. Stanmi lontano, lavoro meglio... Lancia ragnatele riavviati. È ora del twist sweep. Posso aiutarti a fermare Ammered. E come? Niente morti, nessun reato. A modo tuo non può funzionare. Felicia, riguardo tuo figlio. Devo sapere. È per caso? È mio figlio. E me ne occuperò io. Piccolo ragno cociuto. Voglio solo parlare. Ancora tu? Posso continuare tutta la notte, se serve. Oh, è interessante. Immagino che dovrei impregnermi di più. Mi devo avvicinare. Ultimo avviso, non mi cercare. Non scappare. Tu non inseguirmi. Perché voglio farti rallentare. Presa. Stavolta non deve sfuggirmi. Qualche altra ragnatela? Perfetto. Ora devo avvicinarmi. Perfetto. Perfetto. Ah! Ah! Ah!